Amici sportivi appassionati di calcio a cinque, un saluto da Fabrizio Agostini ed Emanuele Barzi, in campo la squadra di Mondo Futsal per darvi questo servizio su Axed Group Latina, Kamedoson, proprio schiocchette sul pallone, partito il match con calma Latina, Maina rientra poi cambia gioco Battistoni, prova a liberare sinistra, palla sul palo, sempre con estrema calma Latina, corso, il sinistro violento improvviso, Avellino, il tiro di Avellino, la palla sulla traversa, la cannonata di Lucio Avellino, Picapau, punta Simonato, Picapau, va via Picapau, mette dentro, e Terenzi sotto misura, Picapau, pallone lungo per Amoedo, mette dentro Terenzi, Terenzi appoggia Picapau, miracolo di Vascello, De Lima, pallone per Viera, 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 palla sul palo, e poi manca il tap in, incredibilmente De Lima, si accentra Picapau, dentro per Amoedo, poi il contrasto ancora Amoedo, il sinistro, palla in rete, la sblocca lui, Lorenzo, Amoedo, 1-0. Per la corrente, Crescenzo, ma si chiude Latina, poi, corso, corso, palla alta, Picapau, dentro Battistoni, però ci mette il piede Belsito, prova a ripartire il came, siamo dall'altra parte, Crescenzo, mette dentro Bellomo, palla in rete, 1-1, ripartenza fulminea, e arriva il pari del came, Battistoni fermato, e allora si ricomincia Maina, Maina, si accentra, Maina, sinistro, pallone che rimane lì, e palla in rete, ancora lui, il devastante, Luziano, Avellino, 2-1, chiude, ancora Picapau, Picapau, si apre il barco Picapau, gran parata di Vascello. Pallone per Avellino, poi allarga a corso la respinta, parte di Vascello, pallone per corso, il tiro di corso, le manone di Vascello, ma c'è il rimorchio, Simonato, Simonato appoggia Crescenzo, la respinta, ancora Crescenzo, palla fuori. Che occasione per il Tosson, poi c'è Maina dall'altra parte, Maina, Maina, Vascello, con il corpo, nuovo possesso Pontino, terzo calcio d'angolo, Maina, la piazza, ancora Picapau, pallone per Amoedo, tutto solo, Amoedo, Amoedo, pallonetto, e palla in rete, straordinario, gol di Amoedo, 3-1 Latina. Poi ancora Dosson, Dosson, pallone per le rete, ha segnato Crescenzo, 3-2, Battistoni, carica il sinistro, Vascello, la respinta, poi fa viaggiare Bellomo, Bellomo tutto solo, Chinchio. Poi Bordignon prova il tiro e trova l'angolino, il pareggio per il Dosson. Ora Battistoni, Battistoni prova la magia, la respinta di Vascello, sa per perdere del pallone, alla fine Avellino, calcio di punizione, anzi, sarà tiro libero. Parte Avellino, il tiro, la palla in rete, Latina di nuovo avanti, Luciano Avellino, implacabile, 4-3. Maina prova ad andare via, nulla da fare, poi Schiochette, alla fine Bellsito. Finisce qui, sul rinvio di Simone Chinchio, questa sfida tra Axed Group Latina e Camedosson, che si è chiusa con la vittoria di 4-3 per la formazione nerazzurra. Dalla nostra postazione è tutto, un saluto da Fabrizio Agostini e da Emanuele Barzi e appuntamento alla prossima sfida dell'Axed Group Latina. Grazie a tutti.